Sciarpe, cravate e pochette con un brand di lusso ma fasullo, prodotte in Cina e vendute con l'etichetta Made in Italy. Un giro milionario scoperto dalla Guardia di Finanza di Como. Le fiamme gialle hanno sequestrato più di 165 mila capi per un valore di 25 milioni di euro. Segnalati all'autorità giudiziaria i legali rappresentanti di due società comasche e di un'impresa milanese accusati di contraffazione, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione. L'operazione delle fiamme gialle è partita dalla perquisizione di due società comasche attive nel commercio di capi di abbigliamento e accessori di brand di lusso, dove hanno scoperto interi bancali di capi con il marchio Yves Saint Laurent e l'indicazione di fabbricazione in Italia. I finanzieri hanno chiesto a una società specializzata, autorizzata dai responsabili dei brand internazionali coinvolti, di verificare l'autenticità dei capi e la perizia ha mostrato che si trattava di prodotti falsi. Dall'analisi dei documenti fiscali, le fiamme gialle hanno individuato una ditta di Lonate Ceppino nel Varesotto, dove venivano messe le etichette ai capi e sono risaliti anche a una società argentina che dichiarava in modo fraudolento di essere autorizzata a produrre per la Maison francese. Complessivamente, le fiamme gialle hanno sequestrato più di 165 mila prodotti contraffatti, per un valore di 25 milioni di euro. Le successive indagini hanno permesso alla Guardia di Finanza di accertare che tra il 2015 e il 2017 sarebbero stati falsificati 800 mila capi di abbigliamento, per una cifra che supera i 150 milioni di euro. L'indagine prosegue per ricostruire l'intero giro d'affari ed eventuali altre società coinvolte.